Con la riapertura delle spiagge sono tornati anche i rifiuti a deturpare dune e litorale della Marina di Taranto. È intervenuta sul posto Chima Ambiente Amio in particolare nell'isola amministrativa a ridosso dei comuni di Pulsano e Lizzano per un intervento che rappresenta il primo step di un più corposo approccio mirato a riqualificare l'intera zona in vista della stagione balneare. L'abbandono di rifiuti spesso ingombrati è una piaga che affligge quella porzione di litorale dove mezzi e uomini di Chima Ambiente intervengono ciclicamente. Vedere un tesoro naturale di quella portata violato dall'inciviltà è uno spettacolo indecente, ha detto il primo cittadino. Intanto in queste ore Amio è intervenuta anche al quartiere Paolo VI, in particolare in via Buozzi nel cuore della zona. Uomini e mezzi hanno rimosso una considerevole quantità di rifiuti costituita da sacchi, macerie, resti di immobili e infissi, potature ammassati nel più totale disprezzo per il decoro del luogo e dei residenti, ascoltati dall'amministrazione Melucci che a sua volta ha attivato la municipalizzata, un intervento specifico che segue la campagna straordinaria avviata a Tamburi e Lido Azzurro per offrire una risposta tempestiva alle sollecitazioni dell'utenza. Tuttavia anche il più imponente sforzo per la pulizia viene vanificato da chi abbandona i rifiuti. I stessi residenti del Rione dovrebbero evitare di farlo ma soprattutto censurare chi lo fa.